I cinghiali e la loro presenza anche sulle strade rappresentano un problema enorme per l'alto rischio di incidenti che possono provocare. Ed un ungulato lungo la strada provinciale appena fuori il centro abitato di Morigerati è sbucato all'improvviso da un cespuglio sulla carreggiata mentre stava transitando con un monopattino un sedicenne del posto. Secondo quanto riporta il giornale del Cilento, il cinghiale avrebbe sorpreso il giovane che non ha avuto il tempo di reagire. L'animale ha anche colpito il monopattino facendo perdere l'equilibrio al ragazzo che è caduto rovinosamente sull'asfalto. Un impatto violento che poteva avere conseguenze ben più gravi. Nessuna conseguenza invece per l'amico del giovane che lo seguiva con la sua bici e che ha dato l'allarme. Il sedicenne ha riportato escoriazioni al volto e dal fianco ma fortunatamente sta bene e è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Rimacolata di Sapri solamente in via precauzionale. Questo incidente, l'ennesimo, riporta l'attenzione il problema crescente della presenza di cinghiali nei centri abitati. Negli ultimi anni questi animali selvatici sono stati avvistati sempre più frequentemente non solo nelle campagne e nei boschi ma anche in aree urbane dell'entroterra ed anche della costa, attratti dai rifiuti e dalla ricerca di cibo. La loro presenza però si è notata soprattutto sulle strade, anche a scorrimento veloce, provocando conseguenze anche molto gravi. Esattamente tre anni fa sulla Bussentina, nei pressi dello svincolo di Casella in Pittari Sud, per evitare un ungulato a perdere la vita fu una donna di 80 anni.